dimmi qualcosa, non vedi che si parla di casa, di cose materiali, ho capito, ma come fai il futuro, io qui parlo d'amore, qui non parlami del futuro, se io sto bene con te, ti amo, ma che c***o frega, se ho 5 euro in tasca, o ce ne ho 1000 in tasca, tu devi stare con me, pure se ho 5 euro in tasca, perché io ti amo, non è, tu mi ami? no, che l'ha il Filippo? ragazzi però non è che si può risolvere solo con l'amore, cioè dovete trovare un punto d'accordo, è lui che mi deve fare il discorso Filippo, ma che discorso, tu devi rispettarmi, tu devi rispettare il mio tempo, ma io te lo rispetto, se il tempo d'Andrea è un anno, due anni, tu me lo devi rispettarmi, io non l'ho mai detto 4-5 anni come hai detto Della, tu devi rispettare il mio tempo, e tu, io ti prendo per mano e andiamo insieme, no che tu vuoi viaggiarmi o tu vuoi fare i ripicchi come hai fatto, ma perché tu è bello, sì sono stato male, sono stato malissimo, sono contenta, ma non è bello di che tu sei stata contenta, non è bello, non è bello, perché almeno capisci, almeno capisci che se mi perdi, ma quale so, ma non è, Anna, 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 tu lo devi lotta lottare a combattuto pure trama ma se tu invece